Nella notte fra il 2 e il 3 febbraio scorso uno di questi sportivi, un ragazzo, un giovanissimo ragazzo, un atleta, un giovane atleta, una promessa, è stato privato per questa violenta, assurda, criminale casualità dei suoi sogni in parte, comunque insomma la sua vita ha preso una piega diversa. Io a lui vorrei dedicare queste immagini. E' in grado condizione, il giovane di Treviso, promessa del nuoto, ferito nella notte a Roma da un colpo di pistola. E' stato uno scambio di persona, quel proiettile che ha tolto a mano e la possibilità di muovere le gambe non era per lui. Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, per vedere se sei sempre meglio. Niente, adesso si inizia l'allenamento. Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in basca oggi, un'emozione bellissima. Entrare là dentro mi è sembrato che non può successo niente. La procura di Roma ha chiesto 20 anni di reclusione per due giovani romani accusati di tentato omicidico. Grazie il vicepresidente per la tua forza e il tuo coraggio. Allora sono passati quasi otto mesi da quella notte e ha cambiato tutto e a marzo Manuel è tornato a nuotare e a maggio, pochi giorni dopo il suo ventesimo compleanno, vent'anni, ha compiuto il 3 maggio, è uscito dal centro di riabilitazione Santa Lucia per riprendere la sua vita nella nuova casa di Roma. E stasera è venuto a trovarci Manuel Bortuzzo. Eccolo qua! Luciana! Un piacere! Manuel Bortuzzo, grazie per questo viaggio. Grazie a voi. Per prendere però il nostro saluto. Grazie. Va bene un applauso così, eh? Bello, bello. Ti dà bella energia. Da carica, vale. Senti, ma in realtà potremmo anche finire qua, però vorrei intanto sapere come stai. Bene, bene, finalmente veramente bene. E poi come hai visto ne sono successe di cose, quindi ho fatto un po' di fatica ma sto bene. Senti, come è cambiata la tua vita è una domanda stupida che non prevede nemmeno una risposta, però come sono cambiati i tuoi pensieri invece mi piacerebbe chiedertelo. Ma guarda, i miei pensieri sono quelli di prima, non sono cambiati molto, devo dirti la verità. Di sicuro dopo quello che mi è successo ho imparato ad avere pazienza, ho imparato che comunque dentro ognuno di noi risiede della forza che non conosciamo che esce giustamente quando viene messa alla prova e quello che penso è che comunque lo sport mi ha salvato in questo caso. Senti, in tantissimi ti hanno manifestato affetto, oltre che solidarietà, ma affetto dal mondo dello sport, da gente comune, dal Presidente della Repubblica, insomma a tutti, a Valentino, insomma gente comune soprattutto. Insomma ha molto colpito la tua storia, perché purtroppo è proprio esemplare, cioè il destino quando si dice quella cosa che improvvisamente va a cambiare. Esatto, però spero di aver fatto capire che anche se il destino... Si può battere. Esatto, che si può battere, che insomma se non siete destinati a fare una cosa poi ce ne stanno altre centomila. Senti, tu ti stai allenando per Tonchio. Io intanto mi sto allenando, poi Tonchio si vedrà. Perché ci sono le Paralimpiadi di Tonchio, no? Certo, ci sono, ci sono. E tu hai una mezza idea? Questo lo vedremo. A chi lo devo chiedere? Scusa, no. No, adesso vedrà lui se farlo, no? Adesso provo a chiederle ai miei amici che torno ad allenarmi tra poco al Centro Federale. Va bene. A paltrinieri, a detti, poi vediamo cosa ti dicono loro, se sono pronto o meno. Senti, una cosa che ho letto che hai imparato è che quando uno vuole fare una cosa è meglio cogliere l'attimo, per esempio, dice io volevo suonare il pianoforte, ho deciso che è meglio non aspettare e hai deciso che imparire a suonare il pianoforte. Subito, subito. Sai che lei è diplomata in pianoforte, è incredibile, ma è diplomata in pianoforte, ha fatto il conservatorio. Quando vuoi? Sì, non era proprio un pianoforte, era un buon tempo, piccolino, insomma. No, era un pianoforte. Ah, era un pianoforte. Allora poi ti lascio il numero, vieni a casa mia. Ma vivo a volentieri. Anche se non suoniamo. Sto facendo tutto da autodidatta, quindi non sono neanche le note che stiamo. Tu mi insegni a nuotare, io non so neanche le note. Sì, perché lei è l'unica che io conosco che non sa nuotare. Questo non può essere. Abbiamo messo l'acquario apposta, sai, perché almeno non mi viene voglia di allenare. Non so a nuotare. Non va bene. Adesso sto prendendo lezioni da un abrador. Da un abrador. Ok, quindi a cagnolino. E così qualcosa riesco a fare, ma credo di avere un problema di ossa pesanti, perché mi vado a fondo. Senti, ti faccio una domanda di cronaca. Domani è attesa la sentenza per i tuoi aggressori, la richiesta della procura è di vent'anni. Non credo che tu sia abitato da alcun sentimento, men che meno di vendetta, ma forse nemmeno di rivalsa. Però posso chiederti qual è il tuo stato d'animo rispetto a domani? Sì, il mio stato d'animo è molto tranquillo, anche perché fino a poco fa non lo sapevo neanche che c'era questa cosa domani. Quindi immagina il mio interesse. Però quello che ti posso dire è che fino a che comunque non c'è una sentenza definitiva, non dirò niente ovviamente. Però anche quando ci sarà, sarà molto superficiale perché comunque vent'anni, dieci anni, trenta, quanti sono, non mi ritornano le gambe. Quindi in questo momento devo pensare solo a me stesso. A novembre uscirà un tuo libro, Edito da Rizzoli, Rinascere. Lì l'appuntamento è per la storia completa. Non so se le Olimpiadi siano il tuo sogno, però il tuo sogno più grande è un altro momento. Al momento sì, il mio sogno più grande è tornare a camminare ed è quello che mi porta tutti i giorni a fare fatica col sorriso perché comunque è una fatica non da poco, chi ci è passato lo sa. Però diciamo che l'obiettivo è qualcosa di troppo grande al quale non si può rinunciare, quindi la si fa col sorriso sempre. Vabbè, grazie. Bravo. Grazie a voi. Grazie. Io te la lascerei. Non andiamo a me. Allora andiamo. La porta in piscina. Se non ci riesci tu non c'è più niente da fare. Ci provo, ci provo. Ma anche con i braccioli. La cembella inizia. Cembella è la tavoletta, smettila. Dai, va bene. Grazie. Manuel Bortuzzo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.